Ciao ragazzi, allora, vlog veloce, diciamo, la bella è la quinta volta che faccio sto video, quindi, insomma, tanto veloce per problemi di memoria. Allora, in questo video voglio parlarvi dei motivi della mia assenza e proporvi delle novità sul canale. Allora, il motivo dell'assenza è che sto rifacendo la camera e quindi non ho tempo e nemmeno spazio perché sto smontando la camera, rimontando i mobili nuovi. C'è un macello, ora vi faccio vedere, ma è velocissimo perché se no io mi dilungo e poi è un casino. Vedete, là dietro c'era il ponte letto, non c'è più. Qua c'è il nuovo armadio da finire di montare, sistemare tutto, la libreria là, sto stuccando tutti i buchi. Un macello, le mensole non ci sono più. Là dietro c'è Kali Linux, installato su Raspberry Pi 2. E questo sistema operativo mi piace. Linux mi piace, mi appassiona, perché io sono appassionato di tecnologia, programmazione, queste cose. E quindi mi garba e quindi lo faccio. Così. Sto imparando un sacco di cose nuove su Linux, sto imparando un po' come muovermi nel terminale. Le cose basilari, insomma. E questo l'ho detto, basta. Se no il video viene troppo lungo, poi finisce la memoria perché non ho la microSD. E quindi basta, basta. Seconda cosa che volevo dirvi. Volevo chiedervi se potete scrivere sotto questo video nei commenti quello che voi volete che io faccia sul canale. perché io non ne ho la palida idea e quindi non vado avanti così. Non so cosa fare, non so cosa... Quindi quello che volevo proporre è che voi mi scriviate qualcosa nei commenti e mi diciate quello che volete vedere nel canale. E questo, basta. E un'altra cosa, subito dopo questo video farò un altro video dove... No, 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 che cazzo dico. Lo dico direttamente qui. Voglio provare a fare un fact time. Quindi, questo fact time, voi mi scrivete le domande sotto a questo video. Scrivete slash slash Ma che cazzo questo dice? No ragazzi, ho la testa fusa. Scrivete hashtag fact time dark dos che cazzo ne so. Scrivete così. E... E mi scrivete la domanda. E facciamo questo fact time non lo so, oggi è il... l'8 luglio. E... Facciamo questo fact time il 10. No, lo facciamo lunedì. Quindi l'11 luglio ci sarà il primo fact time del canale. Quindi vi prego gentilmente di scrivermi delle domande. e... Magari... Magari potete anche dirmelo direttamente lì nei commenti scrivendo così hashtag fact time dark dos mi scrivete magari cosa volete sul canale mi proponete voi le cose io... se... non so, se riesco io... io accetto tutto nel senso io... sono tentato a fare argomenti a trattare argomenti nuovi e... quindi... e... nulla quindi facciamo l'11 luglio facciamo questo fact time ricordatevi l'hashtag hashtag fact time dark dos mi scrivete la domanda o mi proponete qualcosa e l'11 luglio io prenderò tutte le domande e risponderò bene grazie a tutti sotto questo video scrivete le domande grazie a tutti ciao